Oltre l'apparenza, il titolo della mostra dedicata a Pietro Annigoni, oltre 100 le opere del ritrattista eccelso esposte al Museo di San Pietro di Assisi. Il Museo di San Pietro dopo aver fatto tantissime ed importanti mostre personali sia di Ligabue, Carrà ed altri grandi artisti, quest'anno presenta in collaborazione con il Comune di Assisi Pietro Annigoni. Annigoni nasce a Milano nel 1910 e nel 1925 si trasferisce a Firenze. Lì fa amicizia con molti artisti e si iscrive all'Accademia di Belle Arti e non si muoverà più da Firenze fino alla morte avvenuta nel 1981. Grazie per la visione!